Completa, la Cichita, Conchiglia, Cenerentola, Clever Life, Circe degli Dei, Conebride, Castagnole e Charlotte Dalvio. Totalizzatore orientato verso Conchiglia Jet con Antonio Silvestro, ma molto seguita anche la Circe degli Dei con G.P. Maisto, almeno così borbotta il totalizzatore. La retrata è Charlotte Dalvio, imitata da Circe degli Dei, che poi galoppa, galoppa Circe, prende velocità la macchina. E la corsa di Circe finisce qui, almeno sembra. Via la macchina. Si lotta per il comando all'attacco della piegata con la Conchiglia che sta per emergere nei confronti di Costagnola di dentro, la Cichita. Cavallecchia affrontano la piegata, poi la Cenerentola. Galoppa improvvisamente e si elimina, così si ritrova al comando, la Cichita con Vincenzo Luongo nei confronti di Costagnola. 13.4 a partire, il 2 subito a tabellone anche per l'altra favorita. La corsa finisce qui. 31. Ne rimangono in 5. E così ora può amministrare la leadership, il buon Vincenzo Luongo. In terza posizione la Cenerentola. Per linea esterna è la Conibreed che tenta la risalita. 600 in 47.2 da 1.18.5. Fu ricorso anche l'8 di Charlotte Dalvio. Le Cavallecchia affrontano la penultima curva, con la Cichita sempre a fare una discreta andatura. È completo il mezzo miglio in 1.4 e un po' di spiccioli. E la figlia di Igor Font ora inizia ad allungare, prende vantaggio dalla Costagnola. Si migliora a quella di Minopoli che va in terza posizione. 18.6 il chilometro, 14.4 di frazione. 500 giù di lì alla meta. Le Cavalli affrontano la curva finale. Chiaro vantaggio per l'Igor Font e la ditta Finetti Panico. Vincenzo Luongo in salchi, un 14.8 di fronte che fa 1.33.4. Cavalli al completamento della curva finale. La Cichita, buona, buona, anche se un po' in affanno, si presenta solitaria, indirittura, deve trascorrere i metri. Viene via bene la Conibrid. La Cichita viva sul vantaggio. La Conibrid dimezza il gap. Ma non c'è più tempo perché Vincenzo Luongo aveva fatto tutto per bene e vince facile. Sulla Conibrid e la Costagnola Doc. 2.6 e mezzo, 1.19.1, addirittura 16.4 l'arrivo. Ho detto che era in affanno. Bravo Vincenzo Luongo. Lomino per antonomasia. Che prende netto vantaggio. Mentre non male questa Conibrid. Rimandate le altre, forse si salva un po' la Costagnola, ma le altre, decisamente come il tabellone Borbottana, sono rimandate non a settembre perché è già passato. È tutto per il momento. Linea allo studio. Grazie. Grazie.